Amici, ciascuno di noi in questo momento, mentre decide di fare qualcosa per se stesso, deve contemporaneamente pensare agli altri. Ci è raccomandato di stare in casa il più possibile, di tenere la debita a distanza gli uni dagli altri, non per aumentare l'indifferenza, ma al contrario, per far crescere in noi il senso della responsabilità e della reciproca appartenenza. Trasformiamo la fatica del nostro forzato isolamento in un dono che facciamo a tutti. Dipende da noi dare un significato di fraternità alle indicazioni che ci vengono date. Con l'umiltà, la serietà e l'impegno di tutti passerà anche questo. Distanti ma vicini. Proteggiamoci ora.